Il Comune di Piacenza ha caccia di suggerimenti per ridurre e indirezzare meglio la propria spesa. Da lunedì fino al 31 ottobre, sul sito interna di Palazzo Mercanti, chiunque potrà lasciare i propri consigli. Quelli realizzabili saranno presi in considerazione nella predisposizione del bilancio 2013. Ma attenzione, non potranno essere suggeriti nuovi progetti, né potrà essere chiesta la cessazione di contratti in corso. I detrattori di Palazzo Uffici, ad esempio, non potranno dare libero sfogo alla propria contrarietà. È una spending review, una visione della spesa nostrana, piacentina, nel quale diamo disponibilità a questo dialogo con la città e con i dipendenti. Avremo sul sito internet la possibilità per i cittadini di dire la loro e invece sull'intranet, la rete interna del Comune, per i dipendenti un altro canale anche simile. Il bilancio del Comune non è già ridotto all'osso dopo i tagli e le razionalizzazioni? C'è ancora margine per recuperare risorse? Il margine è risicatissimo, infatti come ho presentato nella presentazione del bilancio 2012, il margine di manovra, diciamo, quello che aspetta è di qualche punto percentuale. Quello che abbiamo la possibilità di fare è di cambiare il metodo di spesa del Comune nel corso degli anni, non è una cosa che si fa in poco tempo, diciamo, che si fa in poco tempo. Grazie a tutti.